Il regista e sceneggiatore Ligure Enrico Aldoini è morto la scorsa settimana all'età di 77 anni. L'annuncio della sua scomparsa è stato dato in diretta a TV da Carlo Conti durante la cerimonia di premiazioni dei Davide di Donatello, evento che si è tenuto presso gli studi di Cinecittà. Il pubblico presente ha tributato un sentito applauso in memoria dell'artista. Aldoini è stato un regista affermato nel panorama cinematografico italiano con film come Cuori nella Tormenta. Lui è peggio di me, una botta di vita, vacanze di Natale 1990-1991, Miracolo Italiano, La fidanzata di papà e i mostri oggi. Inoltre ha lavorato anche per la televisione contribuendo alla creazione di successi come Don Matteo, ideando la caratterizzazione del protagonista interpretato da Terence Hill con la veste di un prete. Tra gli altri suoi lavori per la TV si ricordano Un passo dal cielo, Dio vede e provvede, A casa di Anna, Capri, Il restauratore e la sesta stagione di Provaci ancora Prof. Grazie.